Ma in queste fasi di ribasso, nel momento in cui Bitcoin ha invertito il trend e sta scendendo, bisogna continuare a fare il piano d'accumulo? È corretto continuare a fare dollar cost average? Sì o no? Ne parliamo in questo video dove mi mostro quello che è un indicatore di natura oggettiva da poter utilizzare proprio per rispondere a questa domanda. Non come ci viene, non come ci gira in testa, bensì andando a guardare un indicatore, andando a guardare un numero che ci dà un'indicazione precisa se in questo momento il dollar cost average con i mercati che hanno girato a ribasso, quindi il piano d'accumulo per parlare in lingua italiana, può essere continuato oppure dobbiamo fermarlo perché è troppo rischioso. Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi come sempre mi lasciate i grandi pollici perché mi date una mano con l'algoritmo di YouTube. Andiamo a guardare questo indicatore che secondo me può essere utilissimo per tantissimi di voi e ve lo spiego, quindi vi spiego un po' quello che significa, andiamo ad analizzare quello che fa, quello che non fa e poi delle chicche, anche dei piccoli consigli su come utilizzarlo nel modo migliore possibile. Tra le altre cose, questo è un indicatore completamente gratuito che trovate online, anzi vi faccio già vedere quello di cui sto parlando, che si chiama Mayer Indicator, quindi il multipolo di Mayer. Ragazzi vi spiego che cosa fa, ma soprattutto a che scopo, diciamo, è stato realizzato. Allora, intanto qui sul... vi lascio anche dei link ragazzi per quanto riguarda questo indicatore. Su questo articolo di Cryptonomist troviamo quella che è la formula matematica, è una semplice spiegazione di quello che è il Mayer Multiple, questo indicatore che tra l'altro troviamo anche su TradingView, adesso vi faccio vedere quale andare ad utilizzare. L'indicatore di Mayer è una semplice, ragazzi, divisione fra il prezzo di Bitcoin e il suo valore di media mobile a 200 periodi. Perché parlo ora di questo indicatore? Proprio perché questo video si accosta alla grande con quello che è il mio video legato alla Death Cross sui mercati delle crypto e su Bitcoin di cui vi ho parlato le scorse giornate. Allora ragazzi, quel video, chi non l'ha visto, andatevelo a vedere perché andremo anche a modificare adesso il multipolo di Mayer, quindi l'indicatore di Mayer, per andare a capire se effettivamente in questo momento ci dà un'indicazione di buy e nuovo accumulo su Bitcoin sia con le media mobile a 200 sia con quella che andrebbe veramente considerata su Bitcoin, cioè la 274 come da video che vi ho pubblicato gli scorsi giorni. Il funzionamento dell'indicatore di Mayer è abbastanza semplice e ci dice questo, se il livello dell'indicatore è sotto il livello di 1, accumulare Bitcoin. Se invece il livello dell'indicatore è between 1 e 2.4, siamo in una fase neutrale, above 2.4, assolutamente è una fase di eccesso e andrebbe chiusa l'operatività o comunque non bisogna più coprare in quella determinata fase. Allora in pratica questo indicatore ci dà un numero, un range al di sotto del quale fare il piano d'accumulo, quindi fare pack, sarebbe estremamente conveniente per la storicità di Bitcoin, mentre in una determinata zona siamo in una fase neutrale e in un'altra zona invece siamo in cosiddetto ipercomprato, quindi in eccesso. Possiamo utilizzare questo tipo di indicatore quindi come un'indicazione di ipercomprato o ipervenduto e come un trigger che ci dà la possibilità di dire inizio il mio piano d'accumulo oppure lo continuo semplicemente oppure adesso sto fermo oppure adesso addirittura chiudo le posizioni e inizio a fare exit strategy. Se andiamo a guardare per esempio nell'immediato passato ci rendiamo conto che queste lineette verdi che vedete sul Meyer indicator, lo indicavano appunto che era sotto l'1 e qui eravamo il 30 settembre del 2019 vedete tutta questa fase è una fase di accumulo, qui ripassa in fase neutrale, di nuovo accumulo nel momento del marzo 2020, tutta fase di accumulo marzo 2020 fino ad aprile del 2020, poi fase di stop o quantomeno di between quindi intermedia e poi invece una fase che aveva indicato come fase di eccesso dai 37 mila dollari circa verso gennaio 2021 poi delle piccolezze qui a 47 mila 52 come vedete la struttura soprattutto degli eccessi è veramente molto variabile perché è facile per questo indicatore ritornare velocemente sotto i 2.4 proprio perché è una semplice è una semplice divisione ragazzi quindi non è molto preciso chiaramente su queste cose in questo preciso momento però vi faccio vedere dove siamo tecnicamente dalla 17 di maggio quindi all'ultimo crash dei mercati che poi è continuato diciamo anche in quei negli ultimi negli ultimi giorni siamo di nuovo nella fase di accumulo perché siano sotto il l'1 l'indicazione di accumulo quindi secondo il maier indicatori in questo momento vai con liscio vai col pack vai con la dca perché dovrebbe essere il momento giusto per iniziare la dollar cost average soprattutto per i prossimi mesi qual è il difetto principale di questo tipo di indicatore il difetto principale molto semplice non tiene conto del timing nel breve periodo quindi il multiplo di maier in pratica vi fa andare a accumulare mentre il mercato è contro trend quando il mercato scende ragazzi questo è il concetto perché quando l'indicatore va sotto il livello di 1 significa che il prezzo di bitcoin è al di sotto della sua media mobile a 200 periodi questo significa che si è totalmente contro trend quindi il multiplo di maier ha un difetto enorme diciamo più evidente quando vi dà l'ok per l'accumulo si è totalmente contro trend quindi nel breve periodo il timing è assolutamente pessimo di questo indicatore questo è ovvio perché la sua formula è fatta così e questo può dare seri problemi soprattutto all'inizio dove voi andate magari ad accumulare e vi trovate il mercato che continua a scendere inesorabilmente vi faccio vedere per esempio anche durante queste fasi di accumulo qui eravamo ad esempio a 9.000 8.500 per essere precisi intorno ai 7.000 8.500 e poi ha ripreso una fase d'accumulo con i minimi della pandemia quindi in marzo che sappiamo bene essere arrivati anche a 36 qui poi ovviamente in close ha fatto 5.000 e 7 però questo significa appunto che a livello di timing nel breve periodo è estremamente rischioso utilizzare questo tipo di indicatore ma c'è una chicca che possiamo utilizzare un trucchetto che vi dico tra poco diciamo alla fine di questo video vi dico come in effetti si può ovviare in parte a questa problematica ok intanto andiamo a vedere come trovate e potete applicare l'indicatore di maier su trading view ve lo faccio vedere in maniera molto veloce perché ci sono già indicatori iscritti ma poi andiamo a fare una bella cosa andiamo a vedere ok questo indicatore è stato calcolato con il livello della media mobile a 200 periodi ma nel mio video vi ho spiegato che tecnicamente andrebbe sistemato una media mobile diversa per bitcoin perché bitcoin è aperto sette giorni su 7 h 24 e quindi ho spostato ricalcolato il indicatore di maier sulla mia piattaforma di trading quantitativo e sono andato a vedere qual è il vero valore e con la media 274 quindi vi faccio vedere anche questa cosa allora prima analizziamo quello che riguarda trading view in questo caso ragazzi bitcoin dollaro per quanto riguarda bitfinex andiamo andiamo qui in indicatori trovate questo che secondo me è quello più evidente da utilizzare maier multiple questo di jack nyc quindi ok questo qui ragazzi ok andiamo a inserire questo indicatore sulla trading view vi appare tutte le linee con il giallo quando è in situazione di stallo il verde quando in fase di accumulo e il rosso quando in fase di eccesso come vedete le fasi di eccesso sono abbastanza evidenti perché riprende quelli che sono i massimi storici non i massimi di periodo mentre invece come vi spiegavo prima nelle fasi di fasi di accumulo il mercato il l'indicatore di maier sbaglia in maniera evidente anche il timing perché inizia troppo presto quindi tutto qui ragazzi va contro trend per esempio nell'ultima mercato ribassista aveva iniziato la sua fase di accumulo a marzo del 2018 quando poi il minimo vero è stato toccato a dicembre quindi c'è una distanza enorme dal prezzo di inizio fase di accumulo che è questo al minimo vero cioè parliamo di una distanza del meno 62 per cento quindi questo dovete considerare come vi ho spiegato un difetto enorme di questo tipo di indicatore che appunto va ad anticipare troppi tempi e va totalmente contro trend però guardate qui poi accumula tutta questa fase e quando inizia diciamo il nuovo mercato la nuova bolla e invece poi indica insomma queste fasi addirittura qui c'è un rosso proprio la giornata del massimo del 2019 qui ancora una volta proprio a sostenere la tesi che tantissimi di noi anche in questo momento non hanno riconosciuto una vera bolla sui mercati proprio perché vedete come tentenna indicare gli eccessi in realtà soltanto in alcuni giorni poi durante il massimo addirittura non indica neanche eccesso ma l'indicatore di Meyer indica una fase normale mentre qui vedete era completamente diverso se non che da qui ha iniziato di nuovo la sua fase di accumulo ora se qui siamo come nelle sue fasi iniziali insomma ce la vediamo proprio brutta comunque è un indicatore che si può utilizzare in questo modo adesso andiamo a vedere invece con l'applicazione della media 274 cambia qualcosa perché l'indicatore di Meyer in questo momento ci segna 0.074 per quanto riguarda una media a 200 periodi aggiornato alla i prezzi di oggi che c'è stato ribazzone andiamo a vedere invece aggiornato con una media mobile a 274 che cosa indica eccoci davanti alla mia piattaforma ragazzi allora quello che vedete qui in basso è l'indicatore di Meyer adesso lo zoom così ve lo faccio vedere in maniera molto chiara sta segnando in questo momento 0.75 come è quello che abbiamo visto appunto poco fa andiamo però a fare una cosa gli diciamo non calcolare questo indicatore sulla media a 200 valla a calcolare sulla media a 274 quindi dobbiamo scrivere 274 e lui ci darà ci restituisce un risultato leggermente diverso perché è vero che siamo sempre sotto l'uno però è anche vero che siamo a 0.92 quindi soltanto dalla giornata di oggi che è 22 di giugno 2021 questo indicatore è iniziato a darci l'ok se noi utilizziamo una media a 274 che sarebbe quella corretta come vi ho spiegato che andrebbe utilizzata per analizzare bitcoin secondo le logiche degli istituzionali classici insomma del mercato hold comunque in ogni caso anche su questa indicazione maier quindi il multiplo di maier ci dà l'ok per un inizio fase di accumulo bene abbiamo analizzato questo indicatore ma c'è un tips che vi ho promesso ragazzi che abbiamo capito che l'indicatore di maier sbaglia in maniera abbastanza evidente quando va a ragionare sui tempi perché non è un indicatore che ragiona sul timing di breve allora come possiamo ovviare a questa cosa siccome è abbastanza semplice il concetto che c'è dietro questo indicatore cioè il fatto che misuri la distanza fra la media mobile i prezzi di bitcoin e dice quando questa distanza è molto ampia tra la media mobile a 200 o 274 fate un po voi quella che volete utilizzare e i prezzi è molto ampia allora tu vai a iniziare il tuo piano di accumulo però ragazzi siamo contro 30 allora perché ovviamente più è ampia più significa che i mercati sono crollanti no questo è il concetto quindi a meno che non sia una ripresa a b del mercato quindi una ripresa di bottom up subito immediatamente a quel punto noi ci troviamo contro trend probabilmente per un po di mesi e allora cosa fare ragazzi semplicemente si potrebbe andare a iniziare a incrementare i nostri piani di accumulo quindi a fare i nostri buy iniziando in maniera molto piccola come size quindi andate a ridurre la size dei primi ingressi quando l'indicatore di maier vi sta segnando da poco che è verde a quel punto che volete iniziare ad accumulare però se la vostra strategia di accumulo indica per dire 100 dollari ogni mese andate a metterne magari 60 i primi mesi man mano che l'indicatore di maier resterà verde magari dopo i primi sei mesi iniziate ad aumentare le quote perché così facendo bilanciate questo errore dovuto alla sua natura come stato formulato l'errore del timing di questo indicatore e andate ad ottimizzare rendere più efficiente questo tipo di strategia bene per oggi è tutto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questi indicatori se vi sono utili non mi sono utili perché no andiamo ad aggiungere un altro a freccia al nostro arco ok ragazzi noi ci rivediamo nel prossimo video e come sempre grazie a tutti ciao